Allora parliamo oggi della pigotta anche perché ci è legata a una manifestazione che si svolge domenica prossima presso il comune di Carlopoli. La pigotta, che cos'è la pigotta? La pigotta è una bambola di pezza. Il nome viene proprio dal Lombardo, dalla Lombardia, ed indica ancora una bambola artigianale di pezza. Le bambole che si confezionavano allorché c'era povertà, allorché non esistevano i mezzi che ci sono oggi, le possibilità di confezionare i bambole in tutti i modi, in tutti i sistemi che oggi si conoscono. Venne ideata la pigotta da una volontaria dell'Unicef, Gio Garcia, che è morta purtroppo l'anno passato. Venne ideata nel 1988 e dal 1999 è diventata l'emblema dell'Unicef. Parlare oggi di pigotta, nominare la pigotta significa legarla all'Unicef, a questa grande organizzazione mondiale, globale, che si occupa dei diritti dei bambini di tutto quanto il mondo. È diventata oggi l'emblema dell'unicef perché attraverso la pigotta sono state salvate centinaia di migliaia di bambini nel mondo, anzi esattamente oltre un milione e mezzo in 22 anni. Allora, dicevamo, la pigotta è una bambola, una bambola di pezza, una bambola che viene confezionata da volontari, non esiste in commercio, sono studentesse, sono mamme, sono nonne, sono lavoratrici, sono carcerati, sono ammalati che ce le confezionano. Con tantissima fantasia vengono fuori dei personaggi, delle pigotte, delle pigottine o dei pigottini davvero fantastici, davvero belli. L'Unicef non li vende, vi dicevo, non si trovano in commercio ma l'Unicef non le vende, l'Unicef le fa adottare e le fa adottare ad un prezzo minimo, ad un costo minimo di 20 euro. Perché 20 euro? Perché con 20 euro è possibile comprare un kit di salvavita per i bambini in quelle parti del mondo dove c'è necessità. Ecco, con 20 euro si salva la vita di un bambino. Ecco, perché vi dicevo che ha salvato finora oltre un milione e mezzo di bambini. Perché ne sono state adottate tantissime, ne vengono adottate in continuazione anche attualmente. Noi come Unicef le facciamo adottare per tutto quanto, in qualsiasi periodo dell'anno, però abbiamo in prossimità del Natale e abbiamo proprio negli eventi le giornate della pigotta. Fino all'anno passato, hanno passato intendo il 2019 e in prossimità delle feste natalizie allestivamo nelle piazze principali delle città italiane e di alcuni centri che se ne dichiarassero disponibili, organizzavamo delle bancarelle nelle quali venivano adottate le pigotte. L'anno scorso, cioè 2020, questo non è stato possibile a causa della pandemia e allora abbiamo promosso l'adozione attraverso internet e devo dire che almeno per quanto riguarda la nostra provincia, la provincia di Caranzaro, che io mi onoro di rappresentare a livello di Unicef, è stata una campagna abbastanza favorevole e in più proprio l'anno scorso è stata lanciata anche un'altra campagna, cioè quella rivolta ai comuni perché adottassero una pigotta per ogni bambino nato nell'anno. Ecco, il comune di Carlopoli, che è rappresentato da una nostra volontaria Unicef, alla quale mando un saluto cordiale e un augurio davvero paterno, sincero per l'attività che sta svolgendo. Ebbene, dicevo, il comune di Carlopoli ha aderito all'iniziativa attraverso questa sua giovane sindachessa, dall'arico, ha aderito e saranno consegnate ai bambini, ai familiari dei bambini che sono nati nel 2020. Quindi un'iniziativa veramente incomiabile perché attraverso l'acquisto di queste sette bambole di pezzi, di queste sette nostre pigotte, il comune di Carlopoli avrà contribuito a salvare dei bambini. Tra l'altro quest'anno è stata data una nuova motivazione, una nuova finalità alle somme che si raccolgono attraverso l'adozione della pigotta, cioè quella di sostenere i bambini, compresi i bambini italiani che hanno avuto difficoltà con la scuola a causa del Covid. Quindi con le somme raccolte tra il 2020 e il 2021 saranno sostenuti nelle zone laddove ce n'è bisogno del nostro paese i bambini che non sono riusciti ad andare a scuola, che hanno avuto difficoltà, che non hanno i tablet, che non hanno la possibilità nemmeno di accedere alla didattica a distanza. Quindi una valenza ancora maggiore per la pigotta che vi suggerisco, compratela indipendentemente adesso da quello che ha fatto il comune di Carlopoli e le pigotte si possono acquistare in qualsiasi momento. Possono essere richieste qua a me, alla Presidenza Provinciale, al Comitato Provinciale dell'Unicef di Catanzaro, oppure possono essere richieste al Comitato Nazionale Unicef di Roma che le spedisce direttamente o ancora possono, e in questo caso ecco c'è un catalogo dove voi potrete andare a visitare, scegliere anche quella che vi piace di più e possono adesso da un anno possono essere anche scelte e adottate attraverso Amazon che ci sta concretamente dando una mano e le spedisce addirittura senza fare pagare le spese di spedizioni. E infine voglio lanciarvi un appello se ci sono ragazze, donne, nonne che sono brave a confezionarle ma poi non ci vuole granché perché noi diamo le sagome e diamo l'imbottitura, a confezionare delle bambole, a confezionare delle pigotte alle quali possono dare il nome che vogliono, verranno queste pigotte inviate qua nella nostra sede di Catanzaro e all'occorrenza le invieremo a Roma per distribuirle in tutta Italia e in tutto quanto il mondo se necessario proprio con quello scopo, vale a dire quello di aiutare i bambini, i minori che siano in situazioni di disagio, in situazioni di bisogno che siano in situazioni nelle quali si rende necessario dover difendere, salvaguardare, tutelare i loro diritti. Vi ringrazio e vi formulo tanti 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 cari auguri.